Ce l'ho, te lo dico io, te lo dico io, 32.50, quando gli esperti mi hanno detto guarda che i primi mi arriveranno almeno dopo 40-45 minuti, te la sei mangiata stai a 5 minuti tutti, quindi assoluto il pensiero di cuore e aggendo in questa speranza di aggiornare è stato una bella gara, un film spostacolare, bisogna fare veramente i complimenti un'organizzazione impeccabile per come dire, durata nei minimi dettagli sono molto contento della gara, è un testo dopo quasi due anni si sta perdendo il formato è stato un bello allenamento oggi vorrei ricordare noi, inoltre il 31 ottobre a Paro del Colle ci saranno i campionati italiani master di corsa campestre se avete gli appuntamenti a breve, ditemeli che così vi sponsorizziamo volentieri invece Francesco II provieni dall'Atletica Academy in Bari, tu sei di? Proprio l'Oni esatto, quindi sottolineiamo questo aspetto importante e come è stato correre a casa, dai, diciamolo e soprattutto anche come è stato il percorso, anche se sono quelli dove voi tutti alleni sarà molto bello, vabbè è sempre bello correre per queste mie città sono stato veramente molto felice, non avevo mai provato a correre per il corso e la gara è stata molto bella, l'organizzazione era veramente impeccabile, sono molto felice di questo secondo posto benissimo, grazie l'altro Matteo invece, che ci dice l'altro Matteo? insomma, qualcuno aveva consigliato male, 40, 45, siete stati nei tempi assolutamente 32, 33, 34, grosso modo in una giornata, in una location davvero eccezionale un piacere sempre correre a Bambedonia, bellissima città organizzazioni impeccabili, tornata stupenda veramente un'altra bella gara, un'ottima organizzazione è una bella gara grazie a tutti